Il 19 maggio 2023 a Bologna ci sarà un evento meraviglioso, una masterclass con Steve Vai per festeggiare questo sessantesimo anniversario di Tomassone. Questo sarà un appuntamento veramente unico nel suo genere, una masterclass dedicata che Steve ha detto farà delle cose che non ha mai fatto in un altro evento e ci teniamo a comunicarvelo, a farvi vedere qui sotto tutti i dettagli anche perché c'è ancora la possibilità di trovare dei posti per questo evento con un coupon speciale dedicato a Music Off che trovate qui sotto in descrizione nel link o ovunque sia a seconda del social in cui state vedendo questo video. Dopodiché vi volevo dire una piccola chicca che Steve suonerà con tre nostri cari amici uno è Moreno Viglione che conoscete bene se conoscete i video che facciamo con Music Off in particolare insieme a Davide Tomassone e poi ci saranno due sorprese due ragazzi di Music Off Young che sono Nicola Spandolfi e Christopher Padilla Villa. Sono felicissimo di annunciare questa cosa perché i ragazzi continuamente li coinvolgiamo in nuovi progetti però ecco con Steve Vai chiaramente è sempre un'emozione ancora più straordinaria. Vi aspetto, ci sarò ovviamente anche io, ci saremo noi con lo staff di Music Off per tutta una serie di video. Venerdì 19 maggio al Teatro Arlecchino di Bologna. Guardate in descrizione su tutte le informazioni, tutto qua, tutto qua. Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao!